Un'inchiesta della Procura della Repubblica di Gorizia mira a far luce su una serie di appalti per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche che sarebbero stati alterati. 150 alle gare al centro delle verifiche. Verifiche che gli uomini delle fiamme gialle stanno concentrando in tre anni, dal 2015 al 2018. Coinvolte nell'indagine 120 società in 14 regioni. I finanzieri dalla mattina di mercoledì stanno raccogliendo documenti nelle società che hanno eseguito i lavori ma anche dai committenti. Anas, Autostrade per l'Italia, Veneto Strade, Concessioni Autostradali Venete e Spa, Commissario per l'emergenza traffico in provincia di Treviso e Vicenza, la società che gestisce gli aeroporti di Trieste, Treviso, Venezia, Verona, la Regione Friuli e le società competenti per i porti di Trieste e di Monfalcone. Il gruppo SAVE ha intanto inviato un comunicato nel quale afferma di essere parte offesa nell'inchiesta, affermando che questo aspetto è esplicitamente riportato nel decreto di acquisizione della documentazione del Tribunale trasmesso dalla Guardia di Finanza a SAVE, a R3 e Catullo. Il gruppo naturalmente afferma che collaborerà con gli organi inquirenti.